Si sceglie la strada della protesta. La soppressione del Tribunale di Rossano e la mancata emanazione di un decreto correttivo non vanno giù a un neonato movimento che riprende la lotta senza mirare alla diplomazia. E la questione tribunale diventa il punto da cui partire per dare un'accelerata anche ad altri processi avviati sul territorio, in primis la fusione dei due comuni di Corigliano e Rossano. Su questo fronte i movimentisti sono categorici e spingono affinché si dia la parola all'elettorato attraverso un referendum. L'imperativo è quello di non tardare ulteriormente le procedure amministrative già poste in essere. Nei prossimi giorni ci saranno altri incontri presso la delegazione comunale dello Scalo, dove i movimentisti incontreranno le associazioni che da tempo si battono per la fusione dei comuni di Corigliano e Rossano. Non sono ammesse strategie e visioni da cortile e dito puntato anche contro la politica degli inetti. Chi tarda nella prosecuzione del progetto è perché non vuole la fusione. La teme perché sa che in una futura città di 90.000 abitanti non sarebbe più eletto. Sul fronte tribunale inoltre il sabato prossimo in programma un sit-in in piazza Le Fosse per avviare una serie di incontri con i cittadini, sensibilizzarli sulla problematica e far capire cosa si nasconde dietro la chiusura. Ricostruire i fatti sin da quando il Parlamento diede delega al governo per l'approvazione della chiusura dei cosiddetti tribunalini e con l'avvallo di chi? Chiarire ai cittadini perché Rossano e non Paolo o Castrovillari? Cosa si nasconde dietro la denuncia di carte false? La battaglia dunque sempre a riprendere il percorso interrotto.